Eccolo qua, finalmente il libro di Mirabolante Aventure di Tony Gaumon è pronto, guarda che bello, immagina come starebbe bene infilato nella tua libreria. Come dici, non hai una libreria? Nessun problema, è arrivato il momento giusto per comprartene una, perché questo è solo il volume primo, ne seguiranno altri, sarà come la saga di Harry Potter. Harry Potter e Tony Gaumon, pura magia, la magia nella quale ti ritroverai immerso sfogliando e leggendo queste pagine. Vedi che bello? Ci sono delle foto, c'è un vero e proprio sommario, c'è l'aspettazione, la post-aspettazione, l'introduzione, capitolo 1, capitolo 2, 3, 4, 5, 6, addirittura i ringraziamenti. In più troverai le speciali pentamene con le sacrileghe scrittura, troverai le locandine del tuo migliore anno in mountain bike, della mannara, di vengo anch'io. In diverse pagine troverai gli errori che Tony Gaumon ha fatto e i consigli su come evitarli. Tutto stampato a colori, su carta patinata lucida e rilegata come un vero e proprio libro, in poche parole è un condensato in 153 pagine, 15.000 parole, distruzioni passo a passo per trasformare la tua passione in mountain bike in qualcosa di più. Ma veniamo al punto, dove lo puoi trovare? Adesso lo puoi trovare sul sito tonigomon.it, lo puoi comprare con Paypal, se non hai Paypal manda un'email a info-tonigomon.it e lui stesso ti darà le istruzioni per pagare con bonifico conversamento in posta, così questo meraviglioso libro ti arriverà direttamente a casa tua con corriere espresso nel giro di qualche giorno. Ah sì, Tony mi ha detto che puoi prendere il libro anche direttamente dalla fonte, ti basta andare a trovarlo nella tua fonca tomezzina, in omaggio il suo autografo, se imparerà a farlo, e in più una meravigliosa birra al poce. Attenzione, ora come ora ci sono solo 50 copie e considerando che una l'ha presa da sua moglie e un'altra l'ha comprato il primo vero lettore, speriamo non l'unico, devi far presto se vuoi essere certo di accapararti la tua copia, Tony Gaumon e le sue milagoranti avventure ti aspettano.